ciao a tutti oggi andiamo avanti con la nostra serie di creme spalmabili ne prepareremo una al cocco non so ancora bene il nome quindi chiedo consiglio a voi io non so se chiamarla coconella o coconello solitamente viene chiamata crema raffaello perché prende il nome dal cioccolatino famoso in italia ma secondo me non trasmette gli ingredienti che ci sono all'interno quindi fatemi sapere sotto nei commenti cos'è meglio per voi andrò poi a modificare il titolo vado con gli ingredienti facciamo un video veloce visto che è una cosa semplice 200 ml di latte di cocco 130 grammi di scaglie di cocco nel mio caso voi potete utilizzare la farina di cocco 50 grammi di cioccolato bianco 70 grammi di zucchero di cocco voi sicuramente fate fatica a trovarlo potete utilizzare tranquillamente lo zucchero bianco e 80 grammi di latte condensato mettiamo il nostro latte di cocco sul fuoco quando inizia a scaldare aggiungiamo il cioccolato mescolando sempre per bene altrimenti attacca fondiamo il cioccolato aggiungiamo il cocco aspettiamo che si ammorbidisca per bene e poi col mixer andiamo a fare una bella cremina completiamo aggiungendo lo zucchero quando lo zucchero sciolto possiamo togliere dal gas la nostra crema e completare con il latte condensato molto facile e e Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Bene, la nostra crema spalmabile al cocco è pronta. Naturalmente adesso è un po' più liquida perché è ancora calda. Io ho finito il pane, quindi andrò a utilizzare un cornetto per provare la nostra crema spalmabile al cocco. Spettacolare! Bene, vi saluto, vi incoraggio e iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, guardate gli altri video. Se fate qualche modifica e avete qualche consiglio, sempre sotto nei commenti. E non dimenticate di farmi sapere che nome volete dare a questa crema al cocco spalmabile. Ciao ciao!